ciao fringuelli oggi sono a correre qua al tuscani camp come vedete alle mie spalle c'è la pista d'atletica praticamente una poltiglia di fango ed acqua però queste sono le giornate migliori perché in queste giornate ecco mi è appena caduta una goccia in testa nessuno viene a correre quindi sono libero di fare il cazzo che mi pare non c'è troppa gente anche se qua obiettivamente ci viene a correre pochissima gente però volevo parlarvi di un altro aspetto molto importante che è diciamo così l'allenamento in strada quando noi ci alleniamo in strada con le nostre biciclette spesso e volentieri siamo circondati da decine centinaia di macchine lungo tutto il nostro tragitto e la cosa che noi spesso e volentieri diciamo è che sono le macchine la causa di molti incidenti beh in realtà non è così perché le macchine di per sé e lo sapete quanto io odi le auto in strada sono sicure cioè sono studiate per avere standard di sicurezza altissimi hanno controllo della stabilità hanno il controllo di imbardata controllo di trazione alcune autovetture le più recenti addirittura riescono a vedere un pedone prima di sdraiarlo poi hanno gli airbag insomma hanno un sacco di sistemi di sicurezza anche la carrozzeria stessa che si deforma è un sistema di sicurezza tutto questo per dirvi che che spesso e volentieri noi diamo la colpa non a chi guida l'auto ma alla macchina quando invece la colpa di taluni comportamenti a volte anche omicidi a volte anche pirateschi sono da attribuire non alle auto in sé come veicolo a sé stante ma a chi le guida cioè la colpa non è delle auto ma degli automobilisti cioè noi potremmo costruire la macchina più sicura al mondo con le dotazioni di sicurezza più all'avanguardia sul pianeta ma se alla guida c'è un coglione quella macchina sarà sempre un veicolo pericoloso tutto questo può pò di pippone per dirvi che che in queste giornate a volte è più pericoloso di altre giornate andare in strada e pedalare perché piove perché c'è scarsa visibilità perché fa freddo quindi anche il nostro corpo è più un tirizzito e quindi meno pronte riflessi al di là di tutto se avete modo e se avete poco tempo prima che le tenebre calino sulla vostra giornata fatevi una corsetta di un'oretta come ho fatto io oggi lontano dal traffico lontano da tutto in mezzo alla natura in queste giornate poi vi assicuro che nessuno verrà a rompervi le palle tantomeno automobilisti ok fatemi sapere che cosa ne pensate sul fatto che ad essere pericolosi sono gli automobilisti e non le auto noi come sempre ci vediamo al prossimo video buon allenamento alla prossima ciao